Ciao! Vuoi scoprire come evitare la friendzone? Vuoi capire effettivamente perché è una trappola mentale e come evitarla? Immagino che tu sia in una situazione dove la tua ex vuole tenerti ancora nella sua vita, ma non si sente pronta per una relazione e di conseguenza dice no no, rimaniamo solo amici. Bene, in questo video andremo ad elencare tutta una serie di variabili e cerco l'ora di darti anche qualche consiglio, la mia opinione personale su questa determinata tematica. Io sono Teo, sono consulente relazionale e aiuto gli uomini nel difficile percorso di riconquista ex e se sei interessato all'argomento e se vuoi rimanere aggiornato con i nuovi video che verranno pubblicati, ti consiglio di iscriverti e attivare le notifiche. Ok, che cos'è la friendzone? La friendzone è una situazione assolutamente di merda, nella quale nel 99% dei casi non dovresti incappare ed è quella situazione dove il massimo che puoi pretendere dalla tua ex è un bacio sulla fronte dopo averle pagato una scena costosissima, una stretta di mano o al limite una spalla su cui piangere. La friendzone presuppone che non ci sia un coinvolgimento sentimentale inteso come emotivo barra sessuale. Di conseguenza se tu accetti di essere amico della tua ex, in questo caso, non potrai assolutamente esporti da un punto di vista prettamente anche sessuale, quindi non potrai provarci, tra molte virgolette, non potrai fare ammiccamenti, non potrai fare tante cose e quindi ti sentirai limitato. Nel momento in cui tenterai di fare queste cose, perché chiaramente tu sei attratto da lei e magari ti viene anche naturale, ti troverai nella spiacevole situazione dove l'altra persona si irrigidisce nei tuoi confronti e dice ma scusami ma noi eravamo solo amici, adesso tu ci stai provando con me. Quindi c'è questa sorta di incoerenza nel momento in cui tu accetti l'amicizia e nel momento in cui ci provi tra molte virgolette con lei. Ora, qual è il punto? Che su internet ci sono un sacco di video a riguardo e il messaggio fondamentalmente è questo, non accettare mai la friendzone. Se lei ti dice rimaniamo solo amici, tu devi dire no, vaffanculo, io con te amico non ci voglio essere. Il punto è questo, che se tu rifiuti la friendzone, inevitabilmente vai ad allontanare l'altra persona perché si crea semplicemente un disaccordo, quindi le tue priorità e le sue priorità non si sovrappongono e di conseguenza è inevitabile un allontanamento costante tra le due parti. Ora, qual è il punto chiave che vorrei che ti passasse in questo momento? Il punto è che tu non devi né accettare la friendzone e né andare dritto verso il rifiuto categorico. Ci sono delle situazioni rarissime dove la friendzone diventa un punto di partenza. Ho fatto un video a riguardo, se vuoi vattelo a guardare. Nel 99.9% dei casi rimanenti la friendzone non è un'ottima soluzione. La chiave di lettura che vorrei che tu prendessi da questo video è che bisognerebbe assolutamente rimanere in un limbo indefinito, quindi dove non si è amici, dove non si è separati, ma semplicemente si vive il momento e si vivono le esperienze. È molto importante che tu trasmetta questa chiave di lettura. In che cosa consiste nel pratico? Consiste nel dirle, nel farle percepire attraverso la tua attitudine, eccetera, che fondamentalmente non bisogna etichettarsi. Quindi, cara ragazza, cara donna, In questo momento io capisco che cosa ti spinge, quindi capisco che tu effettivamente sei legata a me e quindi vuoi mantenermi nella tua vita. La stessa cosa smuove anche me oggettivamente, però al momento evitiamo di darci etichette, evitiamo di darci dei ruoli ben definiti. Viviamoci la consorinità. Poi, se nascerà un'ottima amicizia, perfetto, fantastico, sono io il primo che dice che è una figata questa cosa. Se dovremmo essere perfetti sconosciuti, va anche bene. In alternativa, qualsiasi opzione ci si presenta di fronte agli occhi, andrà comunque bene per entrambi. Quindi la chiave di tutto, riassumendo, è rimanere in un assoluto limbo dove non c'è una definizione concreta di quello che siete. Se siamo amici, se siamo partner, se siamo sconosciuti, se siamo conoscenti anche semplicemente. Quindi, di base, questa è la cosa più importante, cioè mantenersi in un limbo ed evitare di identificarsi. Nel momento in cui eviti di identificarti in un determinato ruolo, ti guadagni tantissimo tempo per riuscire a stare a contatto con l'altra persona cercando di creare attrazione, quindi di creare i presupposti per una nuova relazione. Chiaro è che io sto dando per scontato che mentalmente parlando tu sia assolutamente una persona iperpreparata, perché mantenersi in questo limbo è snervante. Se non sei pronto e preparato emotivamente, se continua ad esserci una frizione dentro di te, mantenerti in questa situazione diventa molto complesso. Quindi, ripeto, prima dai priorità al tuo stato mentale e poi dopo fai tutto il resto.